Non ho l'età, letture per giovani e non solo. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Marianna e qui parleremo di libri. Ormai le vacanze sono finite, ci stiamo rassegnando piano piano a riprendere il ritmo, ma su questo canale trovate delle novità. La prima è il GDL, il gruppo di lettura Upsi Lamba, organizzato con Cristina del canale Cris Cris, un cuore tra i libri. Trovate nel video tutte le info per partecipare, sarà un gruppo di lettura che avrà come tema la riscoperta del Novecento Italiano, stiamo leggendo il velocifero di Luigi Santucci. Se vi volete unire a noi sul canale Telegram trovate il link nell'info box sia qui che nel video dedicato al gruppo di lettura. Potete leggere quali e quanti libri volete, insomma, qualcosa di molto libero. E quindi dopo aver inaugurato il GDL, che sarà un progetto che seguirò per tutto il 2023, volevo inaugurare anche una nuova rubrica, una rubrica che sarà randomica, non avrà una cadenza fissa. Insomma, quando avrò modo e occasione di parlare di questo tipo di letture, girerò un episodio per questa rubrica, che si chiama Non ho l'età. Ho pensato a delle letture per ragazzi e ragazze, libri quindi letteratura per giovani che possono interessare innanzitutto i ragazzi e le ragazze, ma anche gli insegnanti, i genitori, curiosi, le persone che vogliono magari riscoprire degli autori che non hanno avuto modo di leggere oppure scoprire qualcosa di nuovo e di diverso. La letteratura per ragazzi e ragazze negli ultimi anni è diventata sempre più ampia. Anche andare semplicemente in una libreria ci mostra proprio concretamente quanto sia seguita, sviluppata, quanti titoli vengano pubblicati. Spesso i genitori, ma anche gli insegnanti, fanno fatica a districarsi e a scegliere un titolo da suggerire a seconda poi del lettore e della lettrice che si vuole coinvolgere, che si vuole catturare. Io per il mio lavoro, chi mi segue lo sa, sono un insegnante, al momento sono alla secondaria di primo grado, quella comunemente nota come scuole medie. Leggo parecchia letteratura per ragazzi, lo sto facendo negli ultimi anni, proprio per aver modo di avere più idee. Ovviamente cerco di prendere spunto un po' online, ci sono molti siti, molte pagine dedicate che danno titoli validi, perché poi un po' il pericolo è quello di cadere in titoli di non elevatissima qualità letteraria, scritti proprio per cavalcare l'onda. Quindi diventa difficile, volevo darvi qualche consiglio, qualche lettura che al di là del fatto che siano letture per ragazzi mi ha colpita. Poi è capitato che in questi giorni di vacanze ho letto due libri di questo tipo di narrativa e quindi volevo parlarvene. Spero che vi possa interessare il contenuto, che vi incuriosisca. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se potete cercate di abbandonare il pregiudizio dell'etichetta della letteratura per ragazzi e lasciatevi catturare da queste storie. Io vi aspetto di sapere il vostro parere. Prima di cominciare ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto già e di lasciare un like di sostegno in modo tale che il canale possa crescere sempre di più. Ringrazio sempre tutti coloro che si sono iscritti e che interagiscono. Ma veniamo a noi. Il primo libro di cui vi voglio parlare è L'inventore di sogni di Ian McEwan. Ian McEwan, autore britannico molto noto e famoso, molto amato anche per il suo romanzo Espiazione, un romanzo che io ho lessi tempo fa e che probabilmente è uno dei miei preferiti o forse lo metterei nella mia top ten per la capacità che ha avuto Ian McEwan di costruire una storia, di giocare molto con il rapporto tra letteratura e vita, tra realtà e finzione, che sono delle tematiche che ritroviamo anche in questo breve titolo, questo breve libricino pensato proprio per un pubblico di più giovani. Ian McEwan è un autore britannico, ha scritto molti romanzi e appunto si è dedicato anche a questa narrativa per ragazzi. È un autore che sa essere anche molto disturbante. Nelle sue storie sa metterci anche qualche elemento macabro, tanto che dopo Espiazione io ho letto Il giardino di cemento, primo romanzo, e mi ha disturbata molto, molto inquietante. Voglio leggere altro dell'autore, mi piacerebbe poi un giorno dedicargli un tre libri di, proprio perché ha una bibliografia abbastanza ampia e anche molto varia. Fatemi sapere se lo conoscete e se vi piace. L'inventore di sogni, dicevo, è un titolo quindi pensato per un pubblico dagli undici anni in su. È la storia di Peter Fortune, un ragazzino che sogna ad occhi aperti, è un bambino molto distratto che tende a distrarsi e che viene spesso rimproverato per questa sua tendenza. In realtà nei suoi momenti che sembrano vuoti, che sembrano momenti in cui si perde nel vuoto a pensare, lui sta creando delle storie, ha questa capacità immaginativa molto forte. È una storia in terza persona in cui l'autore ci mostra appunto questo mondo che si muove all'interno della mente e dell'immaginazione di un undicenne. È molto bella la capacità di Peter di immedesimarsi, o comunque la sua volontà di capire il mondo attraverso gli occhi di altre persone, ma anche animali. Infatti Peter farà scambio anima con il suo gatto di 17 anni, vedrà il mondo con i suoi occhi, prenderà i panni del cuginetto neonato e quindi vedrà il mondo attraverso un bambino che non riesce nemmeno a parlare e a camminare e poi alla fine diventerà adulto per un po'. Quindi immaginerà il mondo degli adulti, che cosa vuol dire essere adulti? Perché la domanda che ci siamo fatti un po' tutti da bambini è il senso della vita adulta, una vita senza giochi, che senso ha? E Peter attraverso questa immedesimazione riesce ad adottare altri punti di vista, che credo sia una componente molto importante nella letteratura rivolta ad un pubblico giovane, proprio perché è un tema che secondo me va affrontato tra l'infanzia, la preadolescenza, la fatica è proprio quella di essere concentrati su se stessi e di avere difficoltà a capire l'altro, il diverso da noi. Questi esercizi di immedesimazione, di spostamento del punto di vista, sono secondo me molto utili, ma non solo per i più giovani, secondo me è un esercizio che dovremmo costantemente fare, insomma esercitare l'empatia, esercitare l'immedesimazione, così per aprire gli orizzonti, aprire la nostra mente e capire meglio ciò che ci circonda. E questo libricino secondo me dà modo anche agli insegnanti per esempio di prendere un racconto e fare proprio da qui, partire da qui per un esercizio di scrittura creativa sull'immedesimazione, che credo sarà una delle prossime cose che farò a scuola, appunto leggere una parte di questo libro e poi rifletterci e scrivere qualcosa come appunto Peter, con questa sua capacità immaginativa. Quindi consigliato dagli undici anni in su, ma consigliato a tutti appunto per riflettere su queste tematiche. Sempre per questa fascia di età vi consiglio un romanzo molto noto di qualche anno fa, del 2012, Wonder di R.J. Palazzo. È un romanzo dal quale è stato tratto un film di successo, quindi probabilmente ne avete sentito parlare, se non l'avete letto ve lo consiglio. È la storia di August Pullman, detto Augie, che a undici anni mette piede per la prima volta in una scuola. August è affetto da una sindrome che compromette il suo aspetto fisico a una faccia non conforme, è una faccia che lo fa soffrire molto perché attira subito l'attenzione, a volte anche cattiva, delle persone, una curiosità che lo mette in imbarazzo. Ovviamente Augie sente di essere diverso dagli altri, ma è un ragazzino molto intelligente e sensibile. La madre e il padre gli propongono di iscriversi alla scuola media, quindi sarà il suo ingresso nel mondo, e sarà un ingresso nel mondo appunto in prima media, ed è adattissimo a questa età. Io lo sto leggendo nella mia prima e devo dire che sta avendo molto successo ai ragazzini, piace molto. Mi piace molto perché appunto riescono a immedesimarsi in vari personaggi. La storia è costruita infatti seguendo otto punti di vista differenti. In realtà è divisa in otto capitoli, i punti di vista sono differenti, quello di August torna più volte. Quindi vedremo la storia raccontata dal punto di vista di August, dal punto di vista dei suoi amici, delle sue amiche, della sorella, quindi delle persone che vivono intorno a lui e che devono affrontare tutti i problemi che derivano dallo stare in contatto con Ugi, i problemi ma anche e soprattutto le cose belle, le scoperte, le avventure che faranno grazie a questo ragazzino. Quindi questo escamotaggio, questa tecnica narrativa, questa strategia di cambiare punto di vista anche qui ci fa riflettere molto sull'immedesimazione. Per esempio August a un certo punto avrà una delusione da quello che lui riteneva un amico e noi capiremo perché il ragazzino si è comportato così. Ha un rapporto con la sorella non sempre lineare, ma cosa ne pensa la sorella, come vive il rapporto con il suo fratello. E questo arricchimento dei punti di vista, tutti in prima persona, quindi per dare un effetto di ancora più immediatezza, ci fanno vivere questa storia in pieno, ce la restituiscono un quadro più complesso e più generale. E poi devo dire che i capitoli sono molto brevi, gli episodi raccontati sono molto vicini ai ragazzini, cioè si parla della scuola del primo giorno, della mensa, della festa di Halloween, della recita scolastica, della gita. Quindi sono tutte tematiche molto sentite e che catturano l'attenzione dei lettori e che devo dire è stata una lettura piacevole anche per me, quindi anche questo consigliatissimo. Veniamo adesso a un romanzo, anche questo breve, Skellig del 1998 di David Almond, scrittore britannico. Ecco questo è il suo esordio, è un esordio fortunato che ha dato modo poi a quest'autore di diventare una delle voci più importanti per la letteratura per ragazzi. Ha vinto anche il premio Andersen, piccola parentesi sul premio Andersen, è un premio che viene conferito a scrittori e scrittrici che si occupano di letteratura per ragazzi e ragazze in senso molto ampio, quindi vengono premiati anche gli albi illustrati, i graphic novel, scrittura oltre 12 anni, ci sono molte molte categorie che vengono scelte, analizzate e premiate. David Almond è stato premiato per questo suo libro, ma in generale per la sua opera, perché è una delle voci di narrativa per ragazzi più autorevoli, quella che ha prodotto anche molti romanzi. Skellig è il primo, è del 1998, è la sora di Michael, un ragazzino, anche lui di 11-12 anni, che cambia casa. Michael ha un problema in famiglia, è nata una sorellina prematura, alla quale non ha avuto nemmeno il coraggio di dare un nome proprio per le sue precarie condizioni di salute. La famiglia quindi è concentrata su questo traslogo, ma soprattutto sulle condizioni di salute della piccola e Michael si sente spaisato, abbandonato, la casa nuova è nuova ma è tutta da ristrutturare, quindi ci sono delle zone molto in disordine, lui chiama il giardino la giungla e soprattutto c'è un garage che sta per cadere a pezzi. Michael si addentra in questo garage contro la volontà dei suoi genitori che temono per la sua incolumità, si addentra e scopre una creatura, un essere che è a metà tra un uccello e un angelo. Che cosa ci fa questa creatura lì sotto? Chi è? Che cosa vuole? Michael scoprirà qualcosa in più su questa creatura, Skellig, grazie a Mina, la bambina che abita di fronte casa sua. Una bambina molto particolare, un personaggio che mi è piaciuto molto. Mina non frequenta la scuola per volontà della madre che crede che le scuole siano un po' una gabbia, che non facciano esprimere bene i ragazzi, quindi ha questa istruzione molto pratica, che segue i suoi impulsi, lei disegna, scrive, lavora all'argilla. E in quel momento della sua vita, quando incontra Michael, è molto appassionata di uccelli, quindi li osserva, fa dei bozzetti sul suo quaderno, poi li riproduce con l'argilla, quindi attraverso questo suo lavoro molto pratico studia però anche la teoria, quindi si trovano a studiare la teoria dell'evoluzione. In questo libro infatti ci sono molti significati simbolici, c'è sia la religione, quindi l'angelo, ma c'è sia l'evoluzione. Michael si chiede a che cosa servono le scapole, le scapole sono il punto in cui in tempo avevamo le ali, quindi mescola magia e scienza, è pieno di significati simbolici, che un occhio alla mente adulta sicuramente può cogliere, ma secondo me una mente giovane riesce a trarne ancora più significati, secondo me da questo punto di vista è un esperimento molto interessante da proporre ai più giovani. Sempre tornando a David Almond vi consiglio Il Grande Gioco, ve ne ho già parlato anche in un post su Instagram, questo è il primo romanzo che ho letto di quest'autore, quando ho letto questo romanzo ho scoperto che c'era Skellige, quindi ho voluto comprare assolutamente Skellige, così come adesso voglio leggere la storia di Mina, che è il prequel, è il diario di Mina, appunto l'amica di Michael. Il Grande Gioco è ambientato in una cittadina mineraria, Stonegate, il protagonista, Kit, si trasferisce, anche qui c'è un trasloco, anche qui una situazione familiare particolare, perché va a vivere a casa del nonno che è da poco rimasto Vitovo, con la sua famiglia, quindi va Kit e la sua famiglia, vanno a fare compagnia al nonno. Questa cittadina ha un mistero, ha questa area particolare, perché appunto queste miniere ormai abbandonate conservano dei ricordi, che sono anche inquietanti, infatti sono morti dei bambini lì sotto, c'è una lapide con tutti i nomi dei bambini, e c'è un ragazzino, John Esquieu, che è un ragazzino molto problematico, proveniente da una famiglia difficile, un padre violento, che ha questa invece capacità di disegnare, bravissimo a disegnare. Anche qui ritorna il tema del disegno, quello che mi piace della scrittura di David Almond è la sua capacità di lavorare con più livelli simbolici, lavorare sul disegno, sulla scrittura, su come questi mezzi di espressione poi servono, i suoi protagonisti per capire qualcosa di se stessi. Quindi Kit e John all'inizio sono amici, poi si separano, il grande gioco che fanno è una sorta di sfida che lanciano anche agli adulti, si vedono un gruppo ristretto nell'ingresso di questa miniera, e si sfidano, sfidano la morte. Quindi è un gioco anche molto pericoloso. E Kit attraverso i suoi sogni, attraverso i racconti del nonno, attraverso i disegni di John Esquieu, attraverso le voci, riuscirà a collegare questo passato quasi mitico delle caverne, quasi preistorico, al presente, e riuscirà quindi a intessere e a stringere dei legami sempre più forti, sia con il suo amico problematico che con il nonno. Quindi ci sono, vedete, molti temi, molte tematiche, e poi è molto d'atmosfera. In certi punti mi ha ricordato Stephen King, IT, quando loro vanno appunto in questi luoghi inaccessibili, questa voglia dei ragazzini di sfidare le leggi, di andare dove è vietato andare. Quindi questo me l'ha ricordato. Quindi anche questo, probabilmente per un pubblico un pochino più adulto, quindi 12 anni in su, ma anche 14 penso, quindi è una lettura un pochino più complessa, che vi consiglio di tenere sott'occhio. Ultimo consiglio, un romanzo italiano, Davide Mororosinotto, il rinomato catalogo Walker & Dunn. Io anche questo l'ho letto un anno fa, credo, ne ho fatto un post su Instagram, adesso vedo che sta girando molto, molto anche tra i docenti, è una storia molto bella. Davide Mororosinotto si occupa anche lui di letteratura per ragazzi, è vincitore anche lui del premio Anderson, proprio con questo romanzo del 2016. È un romanzo particolare, mi piace molto anche l'edizione, perché oltre ad avere le scritte, proprio l'impaginazione, ogni capitolo ha accompagnato da un'immagine, questa immagine un po' vintage, perché ci troviamo nella Louisiana del 1904, i protagonisti sono quattro ragazzini che scoprono, insomma, trovano dei soldi nel Bayou, questa sorta di palude, nella loro casetta lì, che è il loro luogo segreto, e decidono di spenderli per ordinare qualcosa da questo rinomato catalogo Walker & Dunn, una sorta di Amazon antelitteram, si può trovare di tutto su questo catalogo. Loro ordinano una cosa, gliene arriva un'altra, e che senso ha questo oggetto, che cosa vuol dire, quindi comincia un viaggio per scoprire cosa è successo, dove è stato l'errore, loro devono arrivare alla sede della Walker & Dunn, che si trova a Chicago, e fanno questo viaggio, quindi abbiamo anche le mappe di questo viaggio, li seguiamo tappa per tappa, e loro che vengono da un paesino con pochi abitanti, insomma, in cui ancora lontano dalla modernità, vanno in questa città che sta nascendo, ci sono giornali, ci sono donne che lavorano, c'è tutto un mondo che loro nemmeno immaginavano, e c'è un mistero da risolvere, anche un caso di omicidio. Questi quattro ragazzini scriveranno la storia ognuno dal suo punto di vista, quindi anche qui, punti di vista multipli, prima persona, e ovviamente anche questo consente un'immedesimazione. Devo dire che qui, anche qua, questo lo consiglio a un pubblico un po' più adulto, dai 12 anni in su, infatti, è stato catalogato, ed è, insomma, ha un linguaggio un pochino più complesso, ci sono tutti questi riferimenti anche a un mondo che è un po' lontano da noi, quindi bisogna avere anche una curiosità verso questa epoca, bisogna lasciarsi affascinare da questo mondo, io l'ho letto, mi è piaciuto tanto, l'ho letto anche mio marito, che non è un appassionato lettore di narrativa per ragazzi, e l'ha trovata invece molto appassionante, è un romanzo anche di ambientazione, quindi questo veramente lo consiglio a tutti, per me è stata una bellissima scoperta. Bene, oggi video breve, spero che vi sia piaciuto questa carrellata, vi sia piaciuta quest'idea, io vi aspetto sempre nei commenti per sapere il vostro parere, questa rubrica tornerà, vi ripeto, non so quando, non so come, seguirà un po' gli spunti di lettura che mi verranno, insomma, che coglierò durante quest'anno. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto al prossimo video. vi ringrazio